Il crotone dei tanti ex lunedì prossimo all'uscita, ore 20 e 30. Test senza alcun dubbio probante in un momento oggettivamente difficile. C'è soprattutto il mercato, urge risolvere la grana Lescano. Come vi abbiamo già raccontato, la Feralpi Salo ci ha provato in tutti i modi. Per l'attaccante italo-argentino si è mosso direttamente il presidente del club lombardo Giuseppe Pasini. L'ultimo tentativo ieri col suo omologo Daniele Sebastiani non è stata trovata la quadra. A quel punto la Feralpi Salo ha virato sull'attaccante croato Carlo Butic in questa prima parte di stagione a Cosenza, ma di proprietà del Pordenone. Particolari sulla prima proposta risalente allo scorso 5 gennaio. Il cartellino di Cernigoi più un forte conguaglio, offerta rifiutata dal Delfino. Ieri l'ex Cernigoi è stato ingaggiato dal crotone. Nelle ultime ore ci ha provato in vano anche il Foggia. Si era parlato, ma non ci sono riscontri, di uno scambio Lescano-Vutai. E comunque non se ne farà nulla. Resta il Padova, fortemente interessato alle prestazioni del calciatore. Manca però l'intesa con gli agenti. Situazione da monitorare. Alla fine l'italo-argentino, che non ha mai chiesto di andare via, potrebbe restare. Ribadiamo il nostro pensiero. Gestione del caso sbagliata. Sarebbe bastato intervenire prima per provare, attraverso il dialogo, a superare incomprensioni e criticità. C'è ancora tempo, ma bisogna fare presto. Si cerca l'accordo con Davide Merola. Esterno d'attacco Mancino, classe 2000 in uscita dal Cosenza. Ballano 15.000 euro. Poi bisognerà trovare l'intesa con Lempoli, proprietario del cartellino. Per il rinforzo di centrocapo, al momento Iennoni, non è in uscita dal Perugia, che lo ha prelevato in prestito biedale dalla Salernitana. Sul giocatore c'è anche l'Ancona, che invece non è interessata a Crecco. Andrea D'Amico, agente di Lorenzo Lonardi, ci ha confermato l'interesse del Pescara per il calciatore. 24 anni, il prossimo 10 febbraio. Lonardi è un punto di forza della Virtus Verona, contratto in scadenza a fine giugno. Lonardi è un centrocampista di struttura, più di governo che non di inserimento. Dunque, non proprio adatto alle esigenze della squadra di Alberto Colombo, potrebbe essere un'operazione per il prossimo anno. Assai più funzionale il 33enne Fabio Scarsella. 28 gol equamente distribuiti nelle precedenti due stagioni, con Modena e Feral Pisalò. Caratteristiche, facilità di corsa, inserimento, scarsella e anche un ottimo colpitore di testa. Profilo molto più giovane, il 22enne Stefano Girelli. 17 presenze e due gol con la maglia dell'Ecco, ma di proprietà della Cremonese.